Allora, sono stato 11 anni, 7 anni in Chito, lavorando con Don Nicola, un altro prete padovano, e diversi laici che si sono succeduti nel tempo. 7 anni di vita di parrocchia con gruppi biblici, pastorello giovanile del decanato e varie altre cose. E poi 4 anni, un cambio di diocesi, dalla Sierra alla Costa, giù vicino a Guayaquil, diocesi di San Jacinto, con l'esperienza di servizi diocesani, sempre facendo comunità con altri due preti padovani, Don Giapaolo Assiso e Don Daniele Favarin, e altri laici, Cristina, che è passata con noi un tempo. Servizi diocesani, insegnamento alla scuola di teologia per laici, padre spirituale seminario per un anno, e poi soprattutto la direzione, creazione in qualche modo di direzione, della Caritas diocesana, l'ufficio di pastorale sociale, l'ufficio, un coordinamento di poche forze esistenti, creando le Caritas parrocchiali. L'ultimo anno, appena finito, un'esperienza di 3 giorni alla settimana nella Caritas nazionale a Chito, per cercare di un po' esportare in qualche modo un modello formativo che abbiamo usato in diocesi, in altre diocesi, e così formare vari gruppi Caritas parrocchiali. Questo in pochissime parole, poi in 10 anni è difficile riassumerli in poco. Un bilancio dell'esperienza, a livello personale, tanti stimoli, mi piace pensare un po' come un secondo seminario, tu studi sei anni per diventare prete, e questa esperienza di altri 11 anni, un po' di missione, vedo che sono stati molto formativi per me, aprire gli occhi sul mondo, su altri modi di fare, Padova, una bella esperienza storica, tradizionale, ma non è l'unica, si scopre fuori, non in casa. E poi l'altro grande seminario è la vita comunitaria. Come preti diocesani non siamo così tanto abituati a vivere insieme, e qui ho fatto comunità per tanti anni con persone diverse, con cose belle, scontri e difficoltà. Faccio fatica a fare un bilancio, nel senso che i piedi e le valigie sono arrivate, il resto forse arriverà un pochino col tempo, sto cercando in questi primi 10 giorni di riprendere contatti con amici, amici preti, familiari, ed è un po' un riatterrare un po' con la volta. Come esperienza di chiesa è un po' fragile la cooperazione, cioè uno scambio reale, tante volte ti senti, mi si perdonerà un po' la critica, ti senti un po' un manovale, cioè lì servono preti e anche un po' soldi per progetti, allora vai, insomma. Però uno scambio reale in termini di chiese, come chiese sorelle, è ancora in fase iniziale, germinale, ecco, per dirlo in una battuta. Poi, chissà, fra tre mesi ci ritroviamo e magari diciamo altre 20 cose che mi sono venute un po' a coscienza nel frattempo. Io non ho mai avuto una vocazione specifica al piccolo missionario, no? Cioè di andare, non è che da sempre ho voluto andare via da Padova, ecco, per dirla così. La grandezza, secondo me, la diversità dell'esperienza Fidei Donum è un'esperienza di chiesa, di ocesana, che è in via. A me il vescovo Antonio ha chiesto 11 anni fa la disponibilità per andare a lavorare in un posto che non sapevo neanche dove fosse, ho aperto l'Atlante per vedere dove fosse sto benedetto Ecuador. Quindi l'invio, il sentirmi mandato da, da una chiesa e a fare cosa? A fare quello che un'altra chiesa chiedeva, non le nostre opere. Per cui c'è un elemento, secondo me, di novità nella Fidei Donum, che è uno scambio tra chiese, un prestito, è per un tempo. Per un certo tempo sono stato a vivere un'esperienza di condividere la fede, il dono della fede, con altra gente, con altri modi di fare lì in Ecuador. La fragilità è, e la vivo con una certa sofferenza anche, è il tema dell'andare, cioè del rientrare in qualche modo. Cioè è la bellezza per un tempo prestati, ma poi i legami e la recezione delle persone tante volte è come sentirsi abbandonati. Quindi arriva il prete da lontano, ci affezioniamo gli uni agli altri e poi si va via. Mi torna in mente Paolo che piangeva, se non sbaglio d'antiochi, spiangeremo, ma poi a un certo punto bisogna ripartire. C'è uno scambio che è importante, tante volte lo si legge in termini un po' unilaterali, un nuovo forse no colonialismo. Insomma arrivano questi che hanno soldi, che hanno pratica pastorale, forse in certe cose possiamo funzionare, tra virgolette bene, in missione, poi però si ritorna. Quel che resta è la comunità cristiana e lì ci sono tante fragilità, qui come lì probabilmente, sul tema di una soggettività della comunità cristiana, non tanto del prete. Forse abbiamo certe forme di clericalismo che continuano ancora ad esserci. Il soggetto non è il consiglio pastorale o la comunità, tante volte è ancora il prete. Per cui ci si affeziona, ci si identifica con il nostro prete e quando va via ci si sente come un po' abbandonati. Un po' nell'esperienza di Fidonuma, differente forse da quella dei religiosi che con la congregazione hanno più stabilità. Noi siamo per un tempo, vedo un po' questo, per un tempo è positivo, c'è un prestito, la parrocchia non è mia, le opere non sono mie, sono della diocesi che accoglie. E dall'altra parte anche forse la fragilità perché poi certe cose non continueranno con un certo stile o noi non lo riusciamo a capire in poco tempo. E quindi ecco c'è un po' questa difficoltà nel lasciare e nel andare da un'altra parte o nel rientrare. Ecco, così. Io ho scoperto in Caritas, perché non ci avevo mai pensato coscientemente, ma qual è l'obiettivo della Chiesa? Perché esiste la Chiesa? La Chiesa nel Paradiso non ci sarà, penso, cioè la Gerusalemme Celeste sarà un'altra roba. E ho scoperto che la Chiesa esiste per annunciare la parte finale del Vangelo di Matteo, andate, no, battezzate, insegnate. Ecco, allora tutto il resto, le opere di carità, tutto dovrebbe essere funzionale, annunciare la grande verità del Vangelo, che Dio ci vuole bene e che ci cerca per stare con noi, per regalarci quel che è Lui e realizzarci in quella che è questa dimensione che è l'amore. Allora, la Chiesa in missione dovrebbe annunciare questo. Il dove forse è relativo, certo c'è da distinguere una missione ad gentes e come dicono alcuni amici miei preti, ah la vera missione è qua, no, parlando di Padova. Ogni luogo è necessariamente luogo di missione. Faccio questa distinzione perché fossi restato a Padova probabilmente non l'avrei capita. Cioè, l'andare aiuta anche ad aprirsi molto, a forse andare più all'essenza delle cose, a spogliare di tante tradizioni belle e antiche ma che a volte appesantiscono. Il paradigma pastorale deve essere l'annuncio. Mi piacciono molto gli atti degli apostoli, quei sommari dove si dice che godevano delle simpatie di tutto il popolo, no? Il capitolo secondo, gli atti, cioè erano simpatici, erano gente attraente. A volte certe nostre parrocchie sono un po' come in decadenza, no? Cioè che stanno lasciandosi un po' andare. Ecco, forse questa gioia del Vangelo che il Papa richiamava potrebbe essere la cifra della missione. Ecco, e poi uso un'altra cosa che sto capendo un po', la missione nella pastorale, secondo me, fa molto rima con lettura del territorio. Cioè, leggere il posto dove siamo. Non posso fare pastorale in centro a Padova come in centro a Vicenza o a Verona, o in Campania o sui monti o in Ecuador o in Thailandia. Cioè, l'attenzione, per dire in termini più di teologia, all'incarnazione. Lì dove siamo? Ma dov'è che siamo? Leggere la realtà. Secondo me siamo un po' poveri di questo. Con le carita sparocchiali, lì facevamo l'esercizio di, adesso è facile vedere dal satellite, no, con questi programmi, il territorio. Allora di colorare le farmacie, le caserme della polizia, le scuole, le altre cappelle evangeliche che erano lì presenti. Cioè, leggere un po' qual è la zona più povera della parrocchia, perché è più povera. E lì partivano molti discorsi che ci aiutavano a leggere la realtà, perché Vangelo deve fare i conti con quella realtà lì dove siamo.